In questo periodo di fine anno tanta gente decide di viaggiare, di andare a fare le feste di Natale e Capodanno, magari dai parenti o qualche viaggetto che aveva organizzato durante l'anno. Ho deciso di fare questo video perché le regole di tante compagnie aeree sono cambiate e è permesso soltanto un bagaglio a mano con delle misure veramente ristrette. Voglio farvi vedere come farci stare dentro una valigia così piccola alla quantità di vestiti per almeno 4-5 giorni fuori casa. Come avete visto questa valigia qua, cioè una borsa, ne ho pagato veramente poco, mi ha costato 14,90 euro. Adesso vi faccio vedere cosa ci metto dentro. Allora io ho messo un paio di jeans, poi un altro pantalone e un altro ancora, quindi tre paia di pantaloni, calcolando che c'è già un cambio che lo fai durante il viaggio. Poi qua cominciano le magliette, una, due, tre, e sono magliette invernali, quindi sono maglietta barra maglioncino. Quindi sono quattro magliette. Poi qua, no, prima c'è ancora il pigiama, vedi parte di sopra e parte di sotto, quindi ci sta anche il pigiama ancora. E poi lì a fianco ci rimane ancora un piccolo spazio e lì ci faccio stare queste scarpe, un paio di scarpe in più, perché diciamo che un paio ce li metti. E un altro, non si sa mai, cadi una pozzangra, un paio in più, che io ci ho messo un paio di scarpe da ginnastica, ma potrebbe essere un paio di sandali, un paio di ballerine. E sopra ci ho messo ancora due canottiere. Poi in questo taschino qua faccio stare tre, quattro paia di calze e più un collante. E piegato in questo modo, vedrete che ci sta, cioè senza fare la pallina, la devi arrotolare ma senza fare la pallina. E ci stanno tutte e cinque. Ricordando che qua sono vestite per quattro, cinque giorni di vacanza. Qua ci sono le mutandine, anche quello vanno piegate in maniera a rotoline, che così ci stanno nei piccoli spazi e ci riesco a infilare, quindi sei mutandine. Volendo ci sarebbe stato, si potrebbe mettere anche altri. Cioè io sto mettendo in modo di non lasciare la borsa veramente che stia per esplodere. Adesso vediamo la chiusura. Sembra che sia proprio piena, ma l'ho chiusa veramente facilmente. E qua, ecco la parte è fatta. Da questo lato qua, io ci metto un maglioncino e due sciarpe. Questo è giusto, io l'ho messo un po' a caso, per fare capire. E poi nel taschino lì ci riesco a mettere anche un paio di ciabate e una cintura. Volendo ci starebbe anche, c'è lo spazio lì anche per lo spazzolino, per il dentifricio, magari un profumo. Però io più che altro volevo far vedere la quantità di vestiti. E anche qua l'ho chiuso senza problemi. Adesso vi faccio vedere la valigia chiusa e non perde la sua forma, cioè la misura di quello. Diciamo che le compagnie aeree di solito chiedono, la misura sono 45x20x35x36, non me lo ricordo bene. E comunque non ha perso la sua forma e questa è la valigia pronta.